per essere qui e ovviamente scusateci per il ritardo, sapete che stamattina eravamo impegnati in un Consiglio dei Ministri per l'approvazione di provvedimenti che vi riguardano. Ci siamo dilungati un po', ma speriamo di aver fatto il nostro lavoro al meglio. Io ovviamente non posso non partire da qui. Ringrazio il Presidente Bonaccini, ringrazio tutte le associazioni di categoria e sindacali che sono venute qui stamattina a rappresentare le necessità del territorio, ma ovviamente prima di tutto vorrei raccontarvi i provvedimenti che sono stati licenziati dal Consiglio dei Ministri questa mattina, che secondo noi offrono delle prime importanti risposte ai territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna. Intanto noi stamattina abbiamo approvato due provvedimenti che riguardano questa materia. Un'ordinanza di protezione civile che ovviamente estende lo stato d'emergenza a tutti i comuni che sono stati colpiti dalla seconda ondata dell'alluvione e che non erano già previsti nella prima, con riserva di estendere lo stato d'emergenza una volta che sarà completata l'istruttoria anche ai comuni che sono stati colpiti nelle Marche e in Toscana, che però necessitano di un altro percorso, e un decreto legge con i primi interventi che consideriamo urgenti. Il decreto legge è molto corposo, ci sono molte misure, io vi dirò ovviamente quelle principali, e ci sono qua sia lo staff di Palazzo Chigi che i due vicepremi e i ministri interessati che sono pronti ovviamente a fornire ulteriori delucidazioni. Che cosa prevede il decreto legge? Prevede ovviamente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto, quindi con ripresa dei pagamenti fino al 20 di novembre. Prevede il differimento per i comuni e le province del pagamento dei mutui nei confronti di cassa depositi e prestiti. Sul tema delle utenze è già stata deliberata la sospensione del pagamento da parte di Arera, ma c'è una norma che rafforza questa previsione da parte di Arera. Per quello che riguarda i mutui, per quello che ovviamente concerne, non c'è bisogno di una norma, perché su questo fa fede il protocollo d'intesa che già esiste tra Governo ed Abbi per la sospensione di mutui, del pagamento dei mutui in caso di eventi calamitosi. Prevediamo per quello che concerne la giustizia il rinvio dei processi civili e penali quando una delle parti o l'avvocato difensore risiedano nelle zone colpite e la sospensione fino al 31 agosto, per quello che invece riguarda l'amministrazione, dei termini dei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. C'è per quello che concerne la burocrazia la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, compresi i concorsi. I dipendenti pubblici, prevede il decreto delle zone, questo ti interessa, i dipendenti pubblici delle zone che sono colpite, i quali fossero fisicamente impediti dal lavorare verranno ugualmente retribuiti. Per quello che concerne la scuola un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica e abbiamo dato facoltà al Ministro dell'Istruzione con ordinanza di lavorare con una certa flessibilità per l'adempimento particolarmente degli esami di maturità in base alle necessità ovviamente degli istituti coinvolti. Anche il Ministro dell'Università prevede la possibilità di didattica ed esami a distanza e c'è un fondo di solidarietà per i docenti delle università interessate e per i primi interventi di ripristino di 3 milioni e mezzo. In più stiamo lavorando per l'acquisto di computer da mettere eventualmente a disposizione di quegli studenti che dovessero operare con didattica a distanza e che non ne fossero in possesso. Lavoro. Noi prevediamo una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. Questa misura complessivamente è coperta fino a 580 milioni di euro. Poi il Ministro Calderone spiegherà quali sono le specifiche. Ma prevediamo anche una tantum fino a 3 mila euro per i lavoratori autonomi. Ma insomma in passato interventi di emergenza da 2 miliardi di euro non so se saranno visti e quindi davvero voglio ringraziare tutto il governo e spero che anche voi siate soddisfatti di questo lavoro. Io mi fermo qui. Chiaramente siamo qui intanto per tutte le specifiche che vi fossero necessarie e poi anche per ascoltare quali sono dal vostro punto di vista sia le necessità o se ci fossero ulteriori provvedimenti urgenti da prendere in considerazione. Vi ringrazio ancora e darei la parola al Presidente Bonacci.